Siamo di nuovo insieme, 8 e 8 minuti primi, come abbiamo già annunciato più volte prima della pubblicità, abbiamo con noi il nostro Claudio Crespina, con cui parleremo di tantissimo astrologia e non solo. Buongiorno Claudio. Buongiorno Elena, buongiorno ai nostri ascoltatori. Claudio Crespina ha detto che il nadir www.ilnadir.com è il sito da frequentare e da vedere in questi giorni. E hai fatto bene a ricordarlo perché anche in seguito i nostri ascoltatori poi potranno andare a consultare quindi le stelle viste secondo una visione che ripeto non è strettamente astrologica ma che comprende anche altre discipline, come andremo a dire. I fatti praticamente, stiamo sui fatti. L'astrologia, senti io prima il discorso di Mazzucco che saluto comunque perché lo conosco non personalmente ma di fama, i fatti sono determinanti e spesso e volentieri senza rimanere sul tasto della predizione, anzi della previsione che lascia un po' basito chi fa astrologia. Ma anche perché in questi giorni se ne sentono di tutti i colori. E poi ecco questa è la cosa divertente che la diciamo subito così scompriamo un campo al CICAP che si diverte a fine anno a prendere tutti quanti i vari oroscopi e giustamente legge tutte cose una contro l'altra armata. Ed è vero. Non conoscenza o presuppone un'invenzione, ma non siamo davanti a un dipinto, siamo davanti a una situazione ben precisa che va saputa leggere. Ecco, a questo proposito io vorrei aggiungere una cosa anche in riferimento a quanto prima dicevamo con Massimo Mazzucco. Purtroppo ci sono degli argomenti e l'astrologia è tra questi ma anche parlando di scie chimiche, anche parlando di 2012, ci sono in giro un sacco di persone che mettono in rete, chiamiamola fuffa, cioè il niente. Cose che ti posso dire, per esempio per le scie chimiche c'è gente che dice sì, le scie chimiche servono per far nascondere gli UFO. Ecco, chi dice questo fa un dispetto alle persone che invece fanno una ricerca seria e approfondita. Certo Elena. Però è vero che c'è proprio tutta una questione anche lì, semi o pseudo para governativa, che fa sì che poi certi siti vengono creati apposta per creare appunto la nebbia. E per far sì che poi in televisione, così come sui siti internet oppure sui quotidiani online, vadano in onda dei messaggi sul 2012 che sono assolutamente ridicoli. Io ieri continuavo a sentire una signora che diceva che finora le previsioni sono state tutte sbagliate. L'11 maggio 2011 doveva esserci, secondo loro, un terremoto a Roma, data che Bendandi non ha mai dato questo sentito con le mie orecchie dall'Associazione Bendandi. Assolutamente. Ecco, eppure se ne è fatto un gran parlare, eppure se ne è fatto una grande allarme, il risultato è stato che l'11 maggio a Roma c'era pochissima gente. Si, sono scappati tutti. Quindi della serie non è vero ma ci credo, facciamo adesso un'operazione seria per quello che riguarda invece l'anno che verrà, perché qui da Paperino a Paperone ne parlano davvero tutti e quasi sempre nel modo sbagliato. C'è da dire giustamente questo, che sparirono tutti e mi pare che l'input lo diedero i cinesi o qualcosa del genere, che se ne erano andati via prima di tutti e la gente si era spaventata. Allora, questo era quello che era stato detto. Ma bisogna dire anche qui che Bendandi non ha nulla a che vedere con il 2012 in questo senso. No, no, parlavamo solo di profezione. Però tutto quello che è successo in questi, diciamo dal 2005, negli ultimi cinque anni, negli ultimi sei anni, parliamo di veramente grandi sconvolgimenti. Adesso senza che ripeto la lista, ma si parla dall'Indonesia del 2006, lo tsunami famoso, al 2004 addirittura giustamente, siamo arrivati al Giappone di quest'anno insomma, voglio dire, e ogni anno sono più di... E come dicevamo a microfoni spenti, veniva preso in considerazione un arco di 30 anni per quello che riguarda un cambiamento astronomico. Il momento in cui c'è lo stazionario, capisci? Lo stazionario dell'arco dell'anno platonico, che sono 26 mila anni, sono 36 anni, non è il 2012. Esatto, quindi non è il 21 dicembre 2012, data sicuramente suggestiva, ma data in cui probabilmente non accadrà niente di particolare. Non accadrà perché sta accadendo, voglio dire... Se non un fatto astronomico. E il fatto astronomico è che c'è, c'è l'allineamento galattico, che è una cosa fondamentale e questa è la domanda che ci dovremmo porre. Esatto, non è la fine del mondo. Non solo non è la fine del mondo, la domanda seria a cui sarebbe bene che qualcuno desse una risposta. Come facevano i Maya, 6 mila e rotti anni fa, 5 mila e rotti anni fa, a sapere questi allineamenti? Questo è curioso. Beh, ricordiamo che erano grandi studiosi di astronomia. Grandissimi astronomi, ma ho capito. Tanto che a distanza di centinaia e centinaia di anni sappiamo benissimo che le loro previsioni per quello che riguardava alcune eclesi o altre sono state sbagliate di qualcosa tipo 34 secondi. Sì, sì, ma infatti, ma poi aspetta, il problema serio anche qui è che loro istruiscono praticamente un concetto di conto del tempo che era avvenirista rispetto al nostro, perché loro studiano e capiscono il tempo come circolare. Noi ancora andiamo avanti a cercare di capire quello lineare, che non è assolutamente reale. Diciamo una cosa, che nella nostra mentalità siamo al 1, 2, 3, 4. Loro fanno 1, 2, 3, 1. Sì, sì, c'è il rientro, c'è il rientro, come giustamente sono i battiti, ma la circolazione del corpo umano è un rientro continuo. Non è che il sangue esce, è tutto l'universo che funziona così e loro l'avevano capito. Come diceva Armete Trismegisto, così in basso e così in alto. Esatto, infatti.